Un vero arsenale da guerra utilizzato per assaltare i bancomat di mezza Italia e quindi anche quelli del Molise. È avvenuto spesso nella nostra regione, ma non solo scorribande, anche ovunque nelle zone limitrofe, e quindi le indagini dei carabinieri di Fano che hanno dato la caccia ad una banda presumibilmente pugliese. Per ora i militari hanno arrestato due persone, ritenute i custodi dell'arsenale. Si tratta di un 36enne muratore incensurato residente ad Ortonova in provincia di Foggia. Grazie al fiuto del pastore tedesco dei carabinieri cinofili di Bari, nella cantina dell'uomo sono stati trovati 150 candelotti con una carica pirotecnica micidiale, 54 metri di miccia, rapida combustione e 5 manufatti in metallo a forma di paletta allungata con manico ancora da assemblare. Il 36enne è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito nel carcere di Foggia, ma le indagini continuano e hanno condotto ad un'altra perquisizione, in una estesa masteria di Cassano delle Mugne di Bari, occupata abusivamente da un'allevatore di 64 anni, personaggio noto ai carabinieri del posto a causa dei diversi precedenti penali. Per il momento l'indagine denominata Piedi di Corvo non ha portato all'arresto dei ladri, cioè a coloro che materialmente hanno eseguito gli assalti agli ATM di Mezza Italia. Però continuano, sono soltanto nella fase iniziale, i carabinieri sono però in grado di ricostruire alcuni dei colpi che hanno messo sotto inchiesta almeno finora 7 persone.